Imprenditoria e occupazione femminile suona il campanello d'allarme. I numeri della nostra regione sono infatti peggiori della media nazionale che emerge dal focus dell'Osservatorio dell'Imprenditoria Femminile di Union Camere e Info Camere. Al livello nazionale si registra un calo dello 0,29%, pari a quasi 4.000 attività in meno rispetto al 2019, dati ben peggiori nella nostra regione. La Toscana nel 2020, l'anno Covid, ha perso 731 aziende femminili, pari allo 0,77% del totale. Va peggio a Firenze, che ha registrato un meno 316, pari a meno 1,35%. Una riduzione significativa del numero di attività imprenditoriali. In particolare il calo riguarda proprio le imprese gestite da giovani, quindi da donne di età inferiore a 35 anni. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Firenze prova ad invertire la tendenza cercando di sviluppare la competenza femminile. Progetti di formazione, di orientamento anche sul digitale che saranno molto importanti in questa fase, proprio in cui con la crisi economica c'è stato sicuramente uno spostamento significativo anche sulla parte appunto del web. Grazie.